Sanoremo Young, replica della seconda puntata su Raiet Live. Info su dove vedere la replica della seconda serata di Sanoremo Young in onda tv il 23 febbraio su Rai 1. Venerdì 23 febbraio 2018 andrà in diretta tv la seconda serata di Sanoremo Young, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. I protagonisti indiscussi di questa serata sono dieci giovanissimi cantanti, tra i 14 e i 17 anni, provenienti da tutta Italia, che sono chiamate a interpretare le canzoni, che negli anni hanno segnato la storia del Festival di Sanremo. Dopo la prima serata, che ha riscontrato molto successo tra il pubblico, battendo addirittura la nuova Ficzione Immaturi in onda su Canale 5, Sanoremo Young ritorna con un'altra imperdibile ed emozionante serata, che potrà essere vista non solo in diretta televisiva, ma anche in replica streaming collegandosi alla piattaforma online su Rai Play. Anticipazioni seconda serata Sanoremo Young Secondo le anticipazioni, la seconda serata di Sanremo Young sarà caratterizzata dalla presenza di alcuni ospiti italiani tra cui Arisa e Massimo Ranieri, che canteranno con i ragazzi del talent di musica live. Simona Ventura, invece, conduttrice di programmi televisivi di grande spessore tra cui il 54 gradi E, D, I, Z, I, O, N e del Festival di Sanremo, sarà protagonista dello showdown e sostituirà Paolo Bonolis, che la scorsa settimana decise di eliminare i due giovani cantanti Alex F e Sharon, che si esibirono con i brani Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro e nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli Dunque, a sfidarsi questa sera sono rimasti dieci giovani, che si metteranno nuovamente in gioco cantando i più famosi brani del Festival di Sanremo e saranno anche questa volta giudicati dalla giuria, dal pubblico da casa e dall'orchestra in studio Quello di Simona Ventura è sicuramente il compito più difficile perché l'ospite, protagonista dello showdown, è chiamato a decidere, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, i due che saranno eliminati dalla gara Quali saranno le scelte di Simona Ventura? Chi saranno gli eliminati di questa seconda serata? Per scoprirlo seguite la puntata, che andrà in onda venerdì 23 febbraio su R1 alle ore 21 e 25 circa o guardatela in replica streaming su Ripe Live Dove vedere la replica della seconda puntata si Sanremo Young 2018? La seconda serata di Sanremo Young sarà trasmessa in prima serata venerdì 23 febbraio su Rai 1 alle ore 21 e 25 circa Per coloro che, in vista del weekend, non avranno la possibilità di vedere la puntata in diretta televisiva potranno riguardarla in replica recandosi sul portal ed streaming Ripe Live Circa 24 ore dopo la messa in onda, infatti, sarà caricata la puntata sulla piattaforma della TV di Stato In questo modo tutti i telespettatori interessati al programma della Clerici potranno riguardarla in replica streaming utilizzando dispositivi mobile come smartphone, computer e tablet Sanremo Young Replica streaming Sanremo Young seconda serata So Allora 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 Grazie a tutti.